E salve a tutti ragazzoli e benvenuti qui in questo nuovo video di Assassin's Creed Valhalla Oggi ragazzi, ok allora, prima ho fatto un video e si sentiva altissimo, quindi cioè, vabbè non importa Oggi siamo su Assassin's Creed Valhalla per iniziare questa nuova avventura insieme, questa serie Dove noi ci alleremo con il territorio dello Yorkshire Ok ragazzi, ora vi lascio al video, poi quando ci sono delle parti in cui parlerò, in cui c'è qualcosa di importante da dire, ve lo dico Comunque ora vi lascio al video, perché questo come, cioè non ve l'ho detto ma è un commentary perché ho prima registrato l'episodio, tutti gli episodi poi Perché non potevo parlare quando li ho fatti, allora adesso mentre sto editando aggiungo la voce Vabbè ragazzi, comunque spero che questi video, questa serie vi piaccia e nulla, vi lascio al video Un duro scontro per tutti Infeziona l'area, simile Un duro scontro per tutti Ok ragazzi abbiamo trovato l'armata di Halfdan con il loro capoguerra che fa Ravid, ok E con viso familiare, vabbè vi lascio al discorso Ok, allora ragazzi qui dobbiamo, qui era abbastanza difficile, in realtà no perché il mio arco l'ho potenziato bene E poi anche una bella mira, poi ho un bel po' di potenza, quindi sono riuscito Ok, ok, guardiamo Ok Vabbè sì, poi l'abbiamo pure stordito, quindi è rimasto proprio senza vita Ok Vabbè poi lo finiamo così Qui già hanno dato anche 7 frecci, quindi buonissimo Che ora andiamo proprio ad attaccarli Ok Oh, quanti pitti si chiamano così Che sono questa tribù indoeuropea che si era stanziata sulle isole britanniche al nord E come i Celti, in pratica E nulla, sono questi qui Poi la storia di questa tribù che nel gioco non si approfondisce molto Sotto c'è morto uno davanti, così era pure un pitto Quindi Good game, ok ecco Abbiamo pure questo Ma è benissimo Dobbiamo difendere Faravid e i suoi uomini, ok Beh dai, ci mancavano, ci mancano pochi Tra virgolette pochi Che, c'è, sono abbastanza di questi qui Questi, dei pitti Di queste tribù Ok Io laggiù, morirai Ecco la pietra per il tuo cranio Che, c'è, 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 c'è Ok Ok, benissimo, ce ne mancano tre O, ah, c'è, tre Ok, poi abbiamo finito Ok, va, ce ne mancano, vai Perfetto Dobbiamo riunirsi a Favarid Faravid Mi confondo sempre con Favarid o Faravid Non lo so Ok, ci riuniamo a lui e vi lascio al discorso Se moriremo qui Presto brinderemo con Odino Comunque vada, avremo vinto Faravid Faravid Mi devi la vita, amico mio Un'altra volta Alftan Ragnarsson Ti incontro nel fuoco della battaglia, buon segno Non ti conosco Sono Eivor Eivor, sì Io è in merce Cercatore di lei con i miei fratelli Ilstandoa e racconta Un timore piuttosto raro E così hai accolto il mio invito In un Paravit Dostruite delle subito Mi raggiungi Un'entrata eroica Lascia un'impressione potente Proprio nel suo Grazie Paravit Ho detto io Beh Avete sentito lo Yacht Prendetemi Ok ragazzi il video si conclude qui Spero che vi sia piaciuto Se così fosse Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Come sempre Ci vediamo Ad un prossimo video Arrivederci a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti